Aveva bruciato i tempi candidandosi già da metà febbraio con tanto di manifesti affissi alle mura di Ariano. Luciano Giorgione, portavoce di Ariano al centro, si mette paradossalmente nell'angolo e ritira la sua candidatura a sindaco per appoggiare quella di Carmine Peluso. Anche lui a capo di una civica ex Ude Orrino, oggi in Forza ai Verdi. Luciano Giorgione figurerà così tra i candidati della civica, uniti per cambiare. Dunque il mosaico di candidature arianesi comincia a delinearsi. Tra i candidati a sindaco rimane in piedi anche il nome di Manfredi D'Amato, a capo della civica L'Orologio. Resta invece ancora avvolta nell'incertezza più assoluta la candidatura del PDL, dove i popolari per Ariano, che fanno capo a Zecchino, dovrebbero indicare il nome tra la riconferma dell'uscente Domenico Gambacorta, ipotesi molto remota, e l'attuale assessore ai lavori pubblici Antonio Mainiero. C'è però l'accordo con l'Udc di Pratola a condizionare l'esito di questa decisione, e non è escluso che lo stesso Pratola possa farsi avanti e proporsi quale sindaco, correndo con una sua lista dell'Udc. Verso il centro-destra si sarebbe spostato anche l'ex assessore provinciale Franco Loconte, ex Udeur e PD, che secondo indiscrezioni avrebbe ora sottoscritto un accordo con Zecchino e sosterà così il candidato del centro-destra. Nel centro-sinistro il nome in pole position resta quello di Giovanni Lavita, in quota SD. Il PD sta promuovendo incontri ad ampio raggio con Rifondazione, Sinistra Democratica, oltre che con lo SD. C'è la consapevolezza di dover allargare ancora di più gli orizzonti per poter vincere le prossime elezioni. Resta infine da capire come si muoverà città e territorio, l'associazione fondata dal tandem Bevere-Covotta. Grazie.